Mi ricordo in Funtana Luglia che facevo Flores, perché prima si faceva uno spettacolo più che altro, Corali, in cui avevano vari personaggi, qui avevamo un ruolo fisso che era quello di Flores, ma ripeto ci si affezionano un po' a tutti, sembra una fase fa, ma mi ricordo tutti con piacere. Forse perché uno degli ultimi è nel Giardino dei Ciliegi, che facevo il personaggio del vecchio Firsi, il vecchio maggiordomo della casa, che poi verrà abbandonato in questa casa e lì morirà. Anche perché l'hanno fatto anche grandi interpreti. Mi sono piaciuto, diciamolo, ha avuto anche buone critiche e ne ho buoni ricordi, ma di tutti dai, ci ricordiamo un po' di come tanti figlioletti che...